Inganno, Mopassant. Le donne. Le donne cosa? Non ci sono prestigiatori più abili nell'ingannarci, con o senza ragione, e spesso per il solo piacere di giocare d'astuzia. E lo fanno con una semplicità incredibile, con un'audacia straordinaria, con un insuperabile acume. Lo fanno da mattina a sera, tutte, tutte quante. Le più oneste, le più rette, le più sensate. Va detto anche che qualche volta sono quasi obbligate a farlo. L'uomo ha sempre stupide ostinazioni e desideri da tiranno. In casa propria un marito impone continuamente ridicole volontà. È pieno di manie, e sua moglie lo asseconda con l'inganno. Gli fa credere che una certa cosa costa un certo prezzo, altrimenti lui si metterebbe a gridare se costasse poco di più. E se la cava in ogni occasione con facilità e con spirito. Così che, se per caso ce ne rendiamo conto, si cascano le braccia. E diciamo, meravigliati, come mai non ce ne eravamo accorti? Quello che stava parlando era un ex ministro dell'impero, il conte de El. Un grande dissoluto, stando alle chiacchiere. È dotato di intelligenza superiore. Un gruppetto di giovanotti lo stava ascoltando. E gli seguitò. Sono stato ingannato da una piccola borghesuccia in un modo comico e magistrale. Perché siate avvertiti. Vi racconterò come accadde. Allora ero ministro degli affari esteri, e avevo l'abitudine di fare ogni mattina una lunga passeggiata ai piedi degli Champs-Élysées. Era maggio. Mentre camminavo, aspiravo avidamente l'odore fresco delle prime foglie nuove. Mi accorsi che ogni giorno incontravo un'adorabile donnina, uno di quegli esseri graziosi ed eccezionali che posseguono il marchio di fabbrica di Parigi. Bella. Sì e no. Ben fatta. Direi di no. La vita troppo sottile, le spalle troppo dritte, il petto troppo incavato. Ma io preferisco queste deliziose bambolette di carne tenera a quel materassone della venere di Milo. Queste donnine hanno un modo di trotterellare formidabile. Basta il piccolo fremito del loro corpicino per ridestare il desiderio nelle nostre vene. Era sembrato che m'osservasse tutte le volte che passavo. Ma donne come questa possono far capire tutto, lasciandoci sempre in dubbio. Una mattina la vedi seduta su una panchina con un libro aperto nella mano. Mi affrettai a sedermi accanto a lei. Dopo cinque minuti avevamo fatto amicizia. Da allora tutti i giorni, dopo un gaio saluto, buongiorno signora e buongiorno signore, ci mettevamo a far quattro chiacchiere. Mi raccontò da essere la moglie di un impiegato e che la sua esistenza era triste, con pochi piaceri, molte preoccupazioni e mille cose ancora. Casualmente, o forse anche per vanità, le dissi chi ero. Lei simulò benissimo una vera sorpresa. Il giorno dopo venne a trovarmi al ministero e ci tornò così frequentemente che gli usceri, i quali ormai la conoscevano, appena la scorgevano vi sbigliavano sotto voce tra loro il soprannome con cui l'avevano ribattezzata. Madame León. León sono io. La vidi ogni mattina per tre mesi senza che mi venisse a noia neanche un solo attimo. Tanto brava era nel trovare variazioni e nel rendere piccante la sua prova d'amore. Ma un giorno mi avvidi che aveva gli occhi pesti e lucidi di molte lacrime, che parlava poco smarrita in un tormento segreto. La pregai, la supplicai di confidarmi la pena del suo cuore e alla fine tremante sussurrò. Sono... sono incinta. E scoppiò in singhiozzi. Fece una brutta smorfia e credo di essere impallidito come succede in casi simili. Non potete immaginare quale sgradevole colpo nel petto si provi all'annuncio di una paternità in attesa. Prima o poi lo proverete. Barbetai a mia volta. Ma... 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 sei sposata, vero? Rispose. Sì, ma mio marito è in Italia da due mesi e tornerà tra parecchio tempo. A qualsiasi costo volevo evitarmi quella responsabilità. Decisi, devi raggiungerlo immediatamente. Divento rossa come un papavero e chinando lo sguardo... Sì, ma... non osò o non volle terminare la frase. Avevo capito. Le detti con discrezione. Una busta contenente le spese per il viaggio. Otto giorni dopo mi mandò una lettera da Genova. La settimana seguente ne ricevetti una da Firenze, poi mi arrivarono da Livorno, da Roma, da Napoli. Mi scriveva... Sto bene, amore mio. Ma... sono diventata orrenda. Non voglio che tu mi veda prima che sia passato tutto. Non mi vorresti più bene. Mio marito non si è accorto di niente. Dato che la sua missione l'obbliga a rimanere ancora per molto tempo in questo paese, tornerò in Francia dopo aver partorito. Quasi otto mesi dopo ricevetti da Venezia quest'unica frase. È maschio! Qualche tempo dopo, una mattina, entrò all'improvviso nel mio ufficio, più fresca e graziosa di prima, e mi si gettò tra le braccia. Le nostre effusioni ricominciarono. Lasciai il ministero e lei cominciò a farmi visita nel mio palazzo di Rue de Grenelle. Mi parlava spesso del bambino, ma io non stavo ad ascoltarla. Quella faccenda non mi riguardava. Le consegnavo soltanto e saltuariamente una discreta somma di denaro dicendole «Mettili in banca, per lui». Altri due anni trascorsero. Lei si intestardiva a darmi frequentemente qualche notizia del piccino, di Leon. Qualche volta si metteva a piangere. «Tu non gli vuoi bene. Ti rifiuti di vederlo. Se sapessi quanto mi fa dispiacere!» Mi tormentò a tal punto che le promise un giorno che l'indomani mattina sarei passata per gli Champs-Élysées, nell'ora in cui lo avrebbe portato a spasso. Quando stavo per uscire, un timore mi bloccò. L'uomo è debole e stupido. Chissà cosa poteva succedere nel mio cuore. E se avessi cominciato a damare quell'essere nato da me? «Mio figlio?» Avevo già il cappello in testa e i guanti in mano. Buttai i guanti sulla scrivania e il cappello su una sedia. «No! Sarà molto meglio che non ci vada!» Si aprì la porta. Entrò mio fratello. Mi porse una lettera anonima ricevuta quella mattina. «Avvertite il conte di Elle, vostro fratello, che la donnina di Rue Cassette lo sta prendendo in giro sfacciatamente. È meglio che si informi su di lei. Non avevo confidato a nessuno quella vecchia storia. Stupito raccontai tutto a mio fratello dall'inizio alla fine e aggiunsi «Io non voglio entrarci. Ti sarei grato se andassi tu». Quando mio fratello fu uscito, pensai «In qual modo può avermi ingannato? Avrà altri amanti? Che mi importa? È giovane, è fresca, è carina. Non posso chiederle altro. Sembra che mi voglia bene e in fin dei conti non mi costa neanche troppo. Proprio non capisco». Mio fratello tornò presto. Alla polizia gli avevano dato informazioni esaurienti sul conto del marito. Impiegato al Ministero degli Interni. Persona per bene, di buona reputazione, correttissimo, ma sposato con una donna graziosa che spende un po' troppo per le sue condizioni. «Tutto qui». Mio fratello andò a cercarla a casa sua e, visto che era uscita, fece chiacchierare la portilaia a peso d'oro. «La signora D è una bravissima persona. Suo marito è una bravissima persona. Non sono superbi, non sono ricchi, ma generosi». Tanto per dire qualche cosa mio fratello domandò. «E il bambino? Quanti anni ha adesso?» «Ma non ha nessun bambino, signore». «Come no?» «Il piccolo leon». «No, signore, vi sbagliate?» «Quello nato durante il viaggio in Italia due anni fa». «Non è mai stata in Italia, signore. Da cinque anni che abita qui, non è mai andata fuori Parigi». «Mio fratello, sorpreso, aveva fatto altre domande e aveva cercato di andare a fondo nell'indagine. Niente figli e niente viaggio». Ero molto meravigliato, ma non capivo il significato profondo di quella commedia. «Voglio accertarvene», mi dissi. «La pregherò di venire qui domani e al mio posto la riceverai tu. Se mai ingannato, dalle questi diecimila franchi e che non si faccia mai più vedere». Comincio a esserne stufo. «Non ci crederete. Il giorno avanti mi dispiaceva aver avuto un figlio da quella donna e adesso ero irritato, avvilito e ferito per non averlo più. Ero libero, sciolto da qualunque obbligazione, da qualsiasi timore. Eppure ero furioso». Il giorno dopo mio fratello l'attese nel mio studio. Entrò quasi di corsa, come al solito. Si precipitò verso di lui con le braccia spalancate e poi, vedendolo, si fermò bruscamente. Lui si inchinò e le porse le mie scuse. «Vi chiedo perdono, signora, se mi trovate qui, al posto di mio fratello, ma mi ha incaricato di domandarvi qualche spiegazione che sarebbe sgradevole per lui ottenere direttamente». La fissò negli occhi e a bruciapelo domandò. «Sappiamo che non avete avuto nessun figlio da lui». Dopo un attimo di stupore lei si riprese, si sedette e ora guardava il suo giudice sorridendo. Gli rispose con franchezza. «No, nessun figlio. Sappiamo anche che non siete mai stata in Italia». Questa volta scoppiò a ridere. «No, mai stata in Italia». Sbigottito, mio fratello concluse. «Il conte mi ha dato l'incarico di darvi questo denaro e di dirvi che il rapporto è finito». «Torno seria». Mi sentasca tranquillamente il denaro e chiese con candore. «E così non lo rivedrò più?» «No, signora». Sembrò contrariata, poi disse placida. «Peccato, gli volevo bene». Vedendo che si decideva con tanta sicurezza, anche mio fratello sorrise e le domandò. «Adesso spiegatemi il motivo per cui avete inventato questa storia complicata del viaggio e del figlio». Meravigliata lo guardò come se avesse fatto una domanda ovvia. «Oh, bella, e credete che una borghesuccia da quattro soldi come me sarebbe riuscita a tenere per tre anni il conte de Hel? Un ministro, un gran signore, un uomo in vista, ricco e attraente, senza inventargli qualcosa. Adesso è finito tutto, peccato. Non poteva durare eternamente, ma almeno per tre anni ci sono riuscita. Ditegli tante belle cose da parte mia». Si alzò, mio fratello disse «Ma il bambino! Ne avete trovato uno da fargli vedere? Certo, il figlio di mia sorella. Me lo prestava quando ne avevo bisogno. Scommetto che è stata lei a fare la spia». «E tutte quelle lettere, dall'Italia?» Si mise a sedere per ridere con più comodo. «Quelle lettere, un vero romanzo. Non per niente il conte è stato ministro degli esteri». «E allora? È un segreto. Non voglio compromettere nessuno». Lo salutò con un sorriso appena un po' beffardo e andò via, senza nessun turbamento, come un'attrice che sa d'aver recitato bene la propria parte. Il conte de Hel soggiunse come se fosse una morale. «Andate a fidarvi di uno di quegli uccellini!»